cari amici eccoci ad un altro dei nostri incontri mattutini alle radici della natura oggi parleremo di problematiche invernali anche se siamo in un momento in cui non c'è ancora freddo addirittura c'è caldo è un caldo un po anomalo per per essere la fine di ottobre tuttavia ieri sera sono stato a una riunione e ho sentito un sacco di gente che tossiva sternutiva e erano pieni di microbi e di virus tanto da da farmi temere di contrarre qualcosa quindi è importante che in questo momento della stagione incominciamo a prevenire cercare di non entrare immediatamente mentre siamo ancora in autunno nelle malattie stagionali quando in realtà preciso non è ancora freddo quindi sarà il freddo di gennaio di febbraio che ci porterà effettivamente all'influenza mentre invece in questa stagione ci sono più questi questi virus pare influenzali questi piccoli sbalzi temperature che favoriscono l'infiammazione laringotracheale che poi può evolvere verso i bronchi ma quali sono i fattori predisponenti di questo di queste tossiche ho sentito questa sera ieri sera innanzitutto ci sono molti inquinanti molti tossici molto un'aria carica di smog soprattutto quando ci sono queste giornate calde e quindi bisogna stimolare qualche cosa che faccia reagire il nostro organismo a livello del nostro apparato respiratorio contro queste problematiche e la cosa migliore che possiamo fare è assumere degli immunoglucani. Gli immunoglucani sono sostanze attive dei funghi medicinali ma sono contenute anche nei funghi mangerecci e anche nel lievito per esempio nel lievito di birra il lievito non è altro che un micro fungo quindi una prima cosa importante sarà quella di assumere un po' di lievito di birra ricchissimo di questi immunoglucani e ricchissimo anche vitamina B oppure di incominciare naturalmente a consumare come alimento dei funghi. L'altro discorso può essere quello che molte volte in effetti per una dieta errata per varie ragioni per lo stress per la fredda e così via l'alimentazione non è sufficiente non apporta un sufficiente quantitativo di vitamine di minerali amminoacide quindi è importante assumere un integratore multivitaminico e multiminerale per iniziare correttamente la stagione fredda. E poi ci sono queste formazioni catarrali, c'è questo catarro, mi ricordo che il catarro, le nostre cellule ciliate delle vie respiratorie se c'erano il catarro come momento di difesa contro gli agenti inquinanti e contro anche alcuni agenti patogeni. Quindi il catarro deve essere curato ma deve anche essere un sintomo e lo cureremo soprattutto con degli enzimi sostanzialmente, con degli enzimi proteolitici che tipo per esempio il più comune sono i fulmucilla, questi enzimi di cui abbiamo parlato tante volte a base di cisteina e così via, di amminoacidi che rompono queste strutture catarrali. E poi naturalmente ci sono dei virus che non sono virus influenzali come dicevo ma sono virus pari influenzali che possono essere come fattori scatenanti sui quali poi si sovrappongono dopo aver indebolito la struttura dei batteri che sono quelli che poi formeranno il catarro giallo, verde eccetera e che potranno essere anche la causa della febbre anche che segue spesso queste malattie se evolvono. E allora lì come ho detto tante volte il grande rimedio con cui partire al mattino per impedire l'aggressione virale sia per i bambini che per gli anziani che per tutti sostanzialmente è la stracalo. Quindi l'assunzione di la stracalo è veramente estremamente importante per le difese antivirali e poi quando eventualmente si tema o ci sia una sovrapposizione batterica gli oli essenziali in particolare l'olio essenziale di origano sono gli antibiotici della nostra medicina naturale. Quindi cose abbastanza tutto sommato semplici, abbastanza semplici ma importanti. Molto spesso si vede, se uno entra nelle farmacie e così via, si vede reclamizzata moltissimo una pianta che è il grande immunostimolante che è l'echinacea. Innanzitutto l'echinacea non è una pianta che sia provatamente immunostimolante e comunque stimola in maniera abbastanza generica il nostro sistema difensivo. Quindi però ha lo stesso un ruolo evidentemente molto importante. Qual è che dovremmo usare? Perché ogni pianta, ricordiamoci, ogni sostanza naturale fa molto bene se usata in maniera specifica. Quindi l'echinacea sarà specificamente indicata soprattutto nel giovane, nel persona dai 15 anni diremmo ai 60, persona iperreattiva che ha una buona reattività immunitaria in cui l'echinacea stimola un aspetto del nostro sistema immunitario e anche modula questo sistema immunitario che alcune volte è anche troppo reattivo e induce delle reazioni molto forti, tipo infiammatorio. Quindi l'echinacea ha un effetto di modulazione del sistema immunitario quindi lo stimola, accorcia, pare la durata dei raffreddori e delle forme influenzali però va usata in queste specifiche persone mentre invece nel bambino piccolo o nell'anziano l'echinacea può avere anche un ruolo immunosoppressivo. Quindi dobbiamo stare attenti con questa echinacea che poi per questa sua funzione complessa del sistema immunitario non può essere usata per tutto l'inverno ovviamente, deve essere usata per dei brevi periodi in cui va modulando il sistema immunitario. Come dicevo prima, molto più semplice invece è l'uso dell'astragalo. L'astragalo è una pianta molto più facile, è una pianta che dà una base reattiva contro i virus ed è molto più provata il suo effetto di protezione nei confronti delle malattie dell'inverno. E poi c'è un'altra pianta che si accoppia all'astragalo e che ha un effetto estremamente profondo ed è una pianta estremamente efficace e che è l'andrografis paniculata. Quindi abbiamo nominato tre piante diverse che agiscono una modulando il sistema immunitario, una persona che tende ad avere una grande iperreatività di chinacea una stimolante l'astragalo per i bambini e per i vecchi un'altra ad azione più completa, più profonda, più terapeutica, meno profonda che è l'andrografis paniculata. Alcena a questo ricordiamoci l'importanza ovviamente di alcune vitamine in particolare voglio segnalare la vitamina C la quale ha un effetto sul tessuto connettivo e impedisce che il virus si approfondisca nei tessuti che prenda piede nei tessuti quella vitamina C è estremamente importante per questo e per questo ha un effetto di accorciamento delle comuni malattie respiratorie e assieme alla vitamina C ce n'è un'altra vitamina molto importante che è la vitamina D la vitamina D, la vitamina D3 ha un effetto di stimolo sulla vascolarizzazione come si diceva anche in altri nostri incontri che è una delle ragioni per cui d'inverno ci ammaliamo perché il freddo contrae le nostre arteriole periferiche anche le cellule di difesa si ritirano all'interno i tessuti sono meno irrorati di sangue e ci si ammala più facilmente ebbene la vitamina D tende ad aprire i tessuti ha un effetto rivascolarizzante e quindi a nutrire di sangue, di elementi nutritivi, di ossigeno, eccetera quindi ha un ruolo estremamente importante anche nella prevenzione delle materie respiratorie e poi naturalmente ci sono altri minerali ecco da un lato lo zinco grande minerale di stimolazione generale delle difese immunitarie e che viene un po' associato al rame che anche quello ha un effetto di stimolo molto profondo quindi noi dovremmo prendere un po' di minerali alcune piante che abbiamo citato poi i minerali, lo zinco è più importante in quantità molto minore anche il rame è uno stimolante della reattività immunitaria e naturalmente un ruolo chiave lo svolge anche il selenio questo grande antiossidante che entra nella terapia perché infiammazione, infezione vuol dire anche ossidazione e poi potremmo citare anche un'altra pianta interessante che è della tradizione nord-europea che è il sambuco ecco tutte le donne tedesche un tempo parlavano degli anni venti, degli anni trenti e del settembre lo scorso preparavano in estate questi estratti di fiori di sambuco di frutto di sambuco e poi usavano come bevanda durante l'inverno e il sambuco ha un potere antivirale nei confronti soprattutto dei virus pari influenzali estremamente utile ed interessante quindi vedete quante cose si possono fare perché dobbiamo iniziare bene la nostra stagione fredda che ogni mattina si parte, si mette in macchina si incontrano smog, si incontrano i virus si incontrano i batteri, i luoghi affollati eccetera eccetera e dobbiamo essere molto attenti a non cadere nel solito antinfiammatorio la solita tachipirina le solite sostanze che in realtà nulla fanno se non spegnere quella reazione infiammatoria che è la reazione curativa del nostro organismo invece noi non dobbiamo fare questo dobbiamo attivare il nostro sistema immunitario con tutte queste piante ne abbiamo citato quattro con questi minerali abbiamo citato tre con i beta glucani e così via che attivano le sostanze immunitarie fanno sì che non ci sia nemmeno il virus che arriva non ci sia nemmeno il sintomo infiammatorio ma la patologia si fermi ancora prima si fermi fuori dalle mura del nostro sistema immunitario arrivederci a domani addio addio Grazie a tutti.